Puglia in zona gialla, ma i sindaci provano a tenere a freno i cittadini con ordinanze specifiche che puntano a contenere le opportunità di assembramento. Riaperto il cimitero comunale da oggi a Barletta e il sindaco di Andria, Giovanna Bruno, ad aver immediatamente, dopo l'annuncio del nuovo DPCM dell'entrata in zona gialla per la Puglia, ad aver firmato diverse ordinanze per regolamentare le accessi alle vie dello shopping e della movida in vista delle festività natalizie. In particolare, parchi e villa comunale restano completamente chiusi. Dal 5 al 21 dicembre poi divieto di stazionamento e di accesso dalle 18 alle 22, se non per le attività commerciali e residenti, in alcune piazze del centro storico cittadino. Nei weekend e nei festivi resta il divieto di accesso per stazionamento anche nelle vie principali del centro più commerciale della città, sempre dalle 18 alle 22, come via Regina Margherita o via Le Crispi. Le violazioni dell'ordinanza sono punite con sanzioni pecuniare che vanno da 400 a 1000 euro. Riaperto a raghi completi invece il mercato settimanale del lunedì, con lo spostamento di alcuni ambulanti per permettere di avere più spazio tra le bancarelle. Mercato ortofrutticolo invece è aperto in modo straordinario dalle 4 alle 13 anche nella giornata di domenica 6 dicembre. A tutti è chiesto un maggior senso di rispetto per tutto quello che è già previsto. Non dobbiamo assembrarci per le strade, possiamo passeggiare, possiamo stare tranquillamente senza sostare ai fini di assembramento. Questo consentirà un maggior deflusso della circolazione e anche un maggior respiro per le attività commerciali, nelle quali ci si può in tutta sicurezza tranquillamente recare, cercando anche di ridare fiducia all'economia locale. Sindaci della sesta provincia che nonostante un lieve miglioramento dei dati della pandemia da Covid-19, un picco che sembra essere stato ormai raggiunto in questa seconda ondata con una leggera diminuzione della pressione sulle strutture ospedaliere, avevano però chiesto di mantenere alcune restrizioni alla regione. Noi sindaci della BAT non condividevamo, i dati di tutta la BAT sono dati che comunque sono preoccupanti, avevamo chiesto per questo motivo anche all'assessore regionale il mantenimento quantomeno delle restrizioni, quindi il colore arancione, ma così non è e ci rendiamo conto che esistono dei dati oggettivi su base regionale per virtù dei quali la Puglia diventa di colore giallo. È chiaro che a questo punto un sindaco non altro che fare che è appellarsi al senso di responsabilità dei suoi cittadini. Grazie a tutti. Grazie a tutti